Siamo qui per una breve cerimonia di ringraziamento rivolta a tutto il personale dell'ospedale di Sesto San Giovanni. Alla presenza del sindaco della città, di tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, della protezione civile, dell'esercito Croce Rossa SOS, che sono qui con noi, ascoltiamo l'inno d'Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno ragazze. Buongiorno. 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 Grazie a tutti.